Si sono conclusi a Riesi domenica e lunedì scorsi i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Catena, patrona appunto di Riesi. Infatti durante la seconda domenica del mese di settembre la comunità riesina festeggia la propria patrona, la Madonna della Catena. Il sabato notte, precedente alla festa dai paesi limitrofi, i pellegrini si preparano all'incontro con la patrona percorrendo a piedi nudi il tragetto fino alla chiesa madre di Riesi. Questo novenario di preparazione giunge al culmine quando i devoti vengono accolti all'interno della Basilica Santuario per partecipare alle messe e per le confessioni. La processione inizia alle 20.30 di domenica, la statua settecentesca della Madonna della Catena viene portata fuori dalla chiesa e subito dopo fuochi d'artificio annunciano l'inizio della festa. La banda musicale comincia a suonare seguita da un imponente e assordante suono di campane. Completata la processione per le vie del paese, la statua rientra nella Basilica che viene allestita con maestose luminarie per l'occasione. La festa prosegue il lunedì successivo quando il popolo riesino può assistere ad un grandioso spettacolo di giochi pirotecnici. Grazie.